Calabre, Traioni e Terreno all'altezza Regina. Questa strada è stata aperta al traffico nel 1991 e da allora ha avuto sensibili miglioramenti. In questo preciso momento ci troviamo all'altezza dello svicolo di Gioiosa Ionica. Spesso comunque siete chiamati a intervenire per la disattenzione degli automobilisti perché purtroppo la salita e la discesa sono abbastanza ripide. È una strada che per la variazione altimetrica d'inverno crea qualche problema nel tratto limina 5 front di Mammola dove spesse volte ci sono delle precipitazioni nevose quindi siamo costretti ad operare in condizioni di emergenza. Comunque il poliziotto è un amico dell'utente e non un repressore come dicevamo. Soprattutto è un amico perché noi siamo qua per risolvere i problemi dell'automobilista per aiutarlo e in ultima analisi proprio diciamo contravenzionarlo. Bene abbiamo visto dove opera la polizia stradale e adesso andiamo a vedere come lo fa, con quali strumenti, come è dotata una macchina in servizio della polstrada di Reggio Calabria e del resto d'Italia che sono tutte dotate dello stesso equipaggiamento. Possiamo vedere nel dettaglio, subito mi saltano all'occhio queste torce, la prima cosa che vedo qua sono delle torce, fiaccole per segnalare la presenza di un incidente o comunque della polizia stradale, soprattutto la notte. Però lasciamo poi scampo e spazio a chi ne sa ben più di me, ovvero l'ispettore Fossella che rapidamente ci illustrerà un po' tutto. Le autovetture di servizio sono dotate in particolare di una nutrita segnaletica stradale mobile, delle torce cerate che si utilizzano generalmente di notte per segnalare degli incidenti stradali, un kit di soccorso sanitario, di primo intervento, per quello che riguarda l'anticendio degli estintori e poi anche dei cavi di trazione in caso gli automobilisti quando rimangono in panne. Questo in particolare mi dicevano sui tratti dove non è facile intervenire con carattrezzi, ad esempio il tratto di autostrada caraggiata unica, di prima emergenza, giusto? Sì, in tutte quelle situazioni particolari dove viene richiesta una rimozione immediata del veicolo per non creare un pericolo alla circolazione stradale. Oltre a questo avete anche un kit per tagliare le cinture di sicurezza che si è a posto a bordo della macchina, non nel baule, per essere pratico da recuperare perché nei sinistri ci può essere l'eventualità di dover tagliare anche le cinture di sicurezza. Sì, capita alcune volte di intervenire sugli cireti stradali dove il conducente è ancora nell'abitacolo, quindi occorre cercare di tirarlo fuori e quindi abbiamo questi kit particolari che servono a tagliare le cinture di sicurezza. Posizionato sul pianale del bagagliaio abbiamo una strumentazione che è diventata famosa anche grazie ai mezzi di comunicazione, diventa il famoso etilometro. Riguarda in particolare i giovani che fanno le loro serate nei locali, controlla se hanno fatto notte brava o sono stati bravi nella notte. Vediamo un po' come funziona. È un Drager Alcol Test, è un modello 7110 e viene utilizzato per rilevare il tasso alcolemico dell'automobilista. L'automobilista che soffia in questo arnese? Sì, questo è invece un precursore che è un esame preselettivo nel senso che indica se l'automobilista ha ingerito o meno sostanze alcoliche. Quindi se l'ha ingerito e noi lo sottoponiamo all'esame. Esatto, si vede da qui, questa luce verde dice di essere pronto all'uso, poi ci saranno tre variazioni, lo giriamo fuori di telecamera, ci saranno tre variazioni di colorazione in quest'altro LED, 0 se comparirà la luce verde, 0 arancione o rosso. Dipende dalla quantità ingerita. Una volta valutata la fascia rossa-arancione verrà sottoposto al Drager Alcol Test che ci aveva spiegato in precedenza, corretto? Esatto, sì. Se questo esame dà un esito positivo, cioè esce la luce arancione o rossa, l'utente verrà sottoposto all'esame, altrimenti no. Oggi tra l'altro è proprio sabato, avremo modo poi di vederlo in servizio a Reggio, proprio a Reggio Calabria, durante il sabato notte, che è il momento di maggior uso per questa strumentazione, perché è il giorno proprio di festa. Quindi aspettate qualche secondo, adesso vedrete nel dettaglio come funziona realmente nella praticità. Buonasera, favorisce la patente della carta di circolazione. Facciamo un controllo al Cortez, deve soffiare qua dentro, un soffio lungo, e un controllo senza appoggiare le labbra. Perfetto, va bene così, va bene così. Perfetto, va bene. Dobbiamo fare un controllo preliminare al Cortez? Sì, ho provato un pochino vivo. Va bene, vediamo un attimino. Soffi, soffi, soffi. Un pochino più forte. Bene, un attimino. Iniziamo sedo all'OAS, siamo venuti a mangiare. No, stiamo venuti a portarci. Lavoro là. Va bene. Se può venire un attimino, dobbiamo fare un controllo etilometro. Allora, deve pensare, la parte più grossa qua dentro, deve incamerare aria, e fare un soffio continuo, costante, senza fermarsi, finché tutti gli asterischi si accendono. Va bene? Soffiare qua dentro. Deve soffiare qua dentro. Un soffio lungo e costante. Va bene? Ok. Vi dico io quando si deve fermare. Qua si accendono gli asterischi e devono arrivare fino alla fine. Ok? Se si accendono, posso cominciare a soffiare? No, no, posso cominciare a soffiare. Un soffio lungo e costante. Via, 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 via. Via, 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 via. Va bene così, va bene così. Lo puoi togliere? Sì. Un attimino. Che significa il zero testo? Che è regolare. La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao. Nunca camina de lao. Nunca camina de lao, de lao. Noca camina, sta facendo. Grazie a tutti